il secondo avamposto dovrebbe essere qui su hong e su casbin mi prendo sempre tali e la biotica ok sono sempre in macchina mamma mia pioggia di meteoriti allora qui c'è l'avamposto get qui c'è l'anomalia ce ne sono due ok andiamo ok qui cosa abbiamo adesso faccio la pirlata oh fa culo piastrina recuperata andiamo qui c'è ancora gente felice di vedermi qua nonostante non sia l'avamposto get però andiamo cazzo quanta roba torretta pesante camminatore get ma quanti siete fuori quanto muoio io qua troppi 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 troppe feste cazzo muori alleluia tutto sto robo per ehi continuo a non capire che cazzo ci sia da fare qua io sono qui e l'ho capito ma qua che cazzo c'è boh che succede non è neanche da distruggere però mi lascia il punto di domanda non so come mai allora la mappa dice anche che c'è qua l'avamposto get probabilmente devo distruggere l'avamposto prima forse eh dunque sono vicino perché lì è disturbato continua ad essere tutto disturbato qua però dove o ce l'ho proprio qui davanti dov'è dov'è è qui è porca torroia che cazzo è eeeh quante robe ma sono get ma va fa culo nave da sbarco no che cazzo succede aah bastardi merde merda 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 sto morendo beh io faccio così ho fatto la stronzata sali su sta merda allora allora oh eellala ne ha lanciati ancora e io sto morendo di nuovo cazzo 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 non mi posso muovere non mi posso muovere non mi posso muovere ce ne sono ancora E io mi devo allontanare Sennò Spero di essere abbastanza lontano Per non essere visto Ma porca merda E che cos'è Allora Torniamo alla Normandy Direi di si Detto sinceramente questo Chi se ne frega Per adesso Ci intornerò in un altro momento In esplorazione Torniamo alla Normandy Torniamo alla Normandy Torniamo alla Normandy